Antonio Scalera si candida al Consiglio regionale pugliese con la lista Puglia domani fitto presidente. E allora Scalera perché si candida? Le ragioni, le motivazioni di questa sua candidatura? Allora intanto io mi candido per amore di questo territorio, territorio che io vivo. Io ci tengo a che questo territorio possa fare un salto di qualità che in questi anni non lo ha fatto, anche perché i settori primari, i settori che hanno sempre trainato la nostra economia, a partire dal comparto agricolo, siderurgia e metallurgia, pesca e altri, turismo, sanità, sono settori che io credo che da una decina d'anni sono ormai in una fase di abbandono. Io conosco molto bene questi settori, sono settori che bisogna ripartire dall'anno zero e bisogna fare molto perché io ritengo che oggi chi si candida ad essere consigliere regionale non solo deve essere conoscitore del territorio, ma deve dare al territorio le risposte che questo territorio si merita. Questo è un territorio che può camminare bene con le proprie gambe, non ha bisogno di nessuno, però ha bisogno di gente competente, ha bisogno di gente che sa di che cosa sta parlando, ha bisogno di gente che dal primo giorno deve essere operativa per questo territorio. Quindi io ho fatto uno slogan, la politica virgola finalmente, perché bisogna ritornare alla politica con la P maiuscola, bisogna ritornare alla politica che valorizzi il territorio, alla politica che parli esclusivamente di bene comune, la politica al servizio della gente. Se non ci sono queste cose che sono basilari per una buona amministrazione, per una buona politica, ritengo che non si va da nessuna parte.